buongiorno da obiettivo news oggi 29 novembre san saturnino di torosa nel 1977 l'assemblea generale delle nazioni unite ha dichiarato il 29 novembre giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese la data è stata scelta per il suo significato per il popolo palestinese il 29 novembre del 1947 fu approvata dall'assemblea generale la risoluzione 181 che prevedeva il piano di partizione della palestina elaborato dal comitato speciale dell'onu sulla palestina tale risoluzione definiva l'istituzione di uno stato ebraico e di uno stato arabo in palestina con gerusalemme come corpus separatum sotto regime internazionale speciale nei due stati previsti solamente quello di israele è stato creato il 29 novembre del 1967 iniziò la guerra arabo israeliana